Allora, termina anche uno dei posticipi più importanti, una gara molto importante per l'Atletico Anzio Lavigno, molto importante per lo Sporting Giovani Risorse, tre punti che comunque vanno alla squadra di casa. Musilli, partita dura, le assenze si sono fatte sentire, però avete tenuto dura, alla fine i tre punti arrivano a voi e bissate il successo di sette giorni fa. Sì, come ha detto lei, successo importante, abbiamo avuto tanti infortunati, tanti assenti, ma con la grinta e il carattere della squadra siamo riusciti a tenere su una partita molto difficile, con gli avversari veramente bravi che ci hanno attaccato, messo alle spalle fino all'ultimo, ma siamo stati noi bravi a reagire, a mantenere calma e a segnare alle occasioni avute. Ecco, Musilli, ti stai confermando comunque anche in questa stagione, l'anno scorso il forte credo, la forte fiducia riposta in entità al tecnico De Angelis, quest'anno sta veramente sfociando in veramente dei risultati anche ottimi, non solo personali ma anche per tutta la squadra. Sì, sono contento, sono contento soprattutto della fiducia del Miss perché da quando c'è stato il cambio di panchina l'anno scorso, dove non faccio neanche un minuto, ho iniziato a giocare e a imparare a giocare appunto al vero calcio a cinque. Mi piace questa realtà e sono sicuro che ho ancora margini di miglioramento e metterò di tutto sempre in campo per migliorarmi e per ripagare la fiducia del Miss che ha dato in me e alla squadra mirando a degli obiettivi importanti. Da uno degli artefici di questa vittoria dell'Atletico Anzio Lavigno Musilli ha collaborato tantissimo ma chi ha collaborato più di tutti è colui che praticamente ha salvato la porta in tante circostanze, addirittura ha rischiato moltissimo uscendo da quella porta quando stava per vedersi rifilare la massima sanzione, cartellino rosso, non è arrivato, cartellino giallo, Mauro Fontemaggi. Tre punti importanti che servono per far crescere il gruppo, il mister lo dice sempre un passo per volta e noi siamo contenti dei risultati che stiamo ottenendo perché i sacrifici quest'anno sono veramente tanti sia per mantenere il gruppo sia per la struttura perché quest'anno ce n'è poco per tutti. Quindi l'impegno è tanto quando vengono i risultati soprattutto quando sono sudati contro una grandissima squadra che è lo Sporting e Giovani Risorse sono risultati ancora più belli. Una squadra di Giovani Risorse è veramente ben organizzata, molto unita, molto coesa, forse è la partita che abbiamo faticato di più per portare a casa il risultato. Sicuramente questo risultato va per le persone infortunate che non hanno potuto giocare, Piero Ascente e Simone Moncata che sono i nostri dio bomber e per tutti quelli che comunque rimangono fuori a vedere la partita. Ecco Fonte Maggi hai un po' espletato quanto accade da un anno a questa parte in questa società dell'Atletico Anzio Lavigno però non dimentichiamo che quando si parla di tanti sacrifici uno tra tutti lo compi tu durante proprio la settimana ma addirittura si pensava che non avresti difeso quest'anno questa squadra, questa porta, poi invece forse un po' ti sei rimesso in discussione, hai dato fiducia a te stesso ma fiducia anche alla squadra. Io più che altro sono molto credente e ho dato fiducia al nostro signore che ha rimesso in piedi mio padre dopo una grave malattia, forse il mio amico Daniele può capirmi per varie motivazioni. Io ogni partita che riesco a giocare, ogni allenamento che riesco a fare per me è come se fosse l'ultimo, come se fosse una vittoria perché non so mai quello che mi aspetta. Tre anni fa da una finale di Coppa Lazio mi sono trovato a dover accudire mio padre che era paralizzato a letto, per cui per me ogni volta che riesco a entrare dentro il campo e stare con i ragazzi è una vittoria. Questo è uno sport bellissimo, al di là del risultato senza dubbio, è uno sport bellissimo che viene troppo trascurato per dare spazio al calcio, i giovani, i piccoli soprattutto dovrebbero seguire questo sport, soprattutto a Latina che c'è una grande piazza, sarebbe importante che i piccolini iniziassero a seguire questo sport perché dà veramente tante soddisfazioni e soprattutto sia sempre protagonisti. Con il direttore sportivo dello sport in giovani risorse Antonio Capozzi andiamo ad analizzare un po' questa sconfitta, ma non c'è tutto da buttare di questa prestazione, la squadra ha dimostrato di poter recuperare, addirittura mettere in sofferenza la squadra avversaria. Sì, perfetta l'analisi, la squadra ha disputato una gara grandissima, abbiamo giocato un ottimo calcio a 5, poi naturalmente gli episodi ci sono stati contro questa sera, e complimenti a Lanzio che è una bella squadra, ci ha creduto fino alla fine, però non ho nulla da rimproverare ai ragazzi perché hanno fatto veramente una gara con una G maiuscola. Ecco, che cos'è che è mancato? Quando ci sono gli episodi che caratterizzano queste gare, a questo punto che cos'è che bisognerebbe tirar fuori? Diciamo da un cilindro del mago, il mago potrebbe tirare la soluzione fuori, un giocatore o meglio una squadra cos'è che dovrebbe tirar fuori? No, noi abbiamo tirato fuori il carattere, abbiamo tirato fuori la voglia di andare a recuperare quello che era lo svantaggio, ci siamo andati vicino con il 3-2, abbiamo avuto delle ottime occasioni per arrivare al pareggio, poi Lanzio giustamente si è chiusa dietro, ha innalzato un fortino importante davanti al loro portiere, vuoi un po' per sbaglio, un po' per la fretta di recuperare, un po' per la bravura degli avversari, e quindi insomma, però i ragazzi ce l'hanno messa veramente tutta, sono contento, non è una frase di circostanza, sono contento della prestazione. Ecco, un'ultima battuta, una risposta secca, da fuori forse qualcosa, tu eri nelle vicinanze dell'aria da fuori, era rigore o no per lo Sporting? No, 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 ero in linea e l'unica cosa giusta che ha fatto è non dare il rigore, io ero in linea e era fuori.